Una convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e delle Architetture Ambientali dell'Università dell'Aquila e l'Arta, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, permetterà la realizzazione di attività condivise di ricerca e formazione su tematiche di carattere tecnico scientifico, relative ad aspetti ambientali, di sostenibilità e innovazione. L'obiettivo è promuovere lo scambio di informazioni, ma anche attuare i progetti di formazione dei giovani laureati, per sviluppare studi e ricerche tesi allo sviluppo del territorio abruzzese in un'ottica sistemica di tutela dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita. Arta e Università vogliono sviluppare anche progetti di ricerca di carattere nazionale e internazionale. Prevederà sostanzialmente una serie di collaborazioni nel campo della ricerca, ma anche nel campo della formazione. Tra l'altro prevede anche la formazione di un tavolo congiunto, proprio per portare avanti questo tipo di iniziative. Secondo me porterà delle fortissime ricadute, sia sul territorio, per tutta una serie di tematiche che possono essere congiuntamente affrontate, per esempio la sicurezza, ma anche sugli aspetti formativi. Art Abruzzo ha al proprio interno le professionalità che scaturiscono in gran parte, forse nella maggioranza dei casi, dall'Università dell'Aquila, da questo dipartimento. Parliamo di scienze dell'ambiente, parliamo di ingegneria dell'ambiente, che sono i professionisti, le competenze che trovano maggiore utilizzazione all'interno dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Quindi abbiamo ritenuto di individuare un partner privilegiato, che è l'Univac, ed oggi tutto questo verrà siglato. L'intesa è stata benedetta in conferenza stampa, alla presenza anche del Rettore Eduardo Alesse e di docenti e ricercatori del Dicea. L'accordo si inserisce a pieno nelle attività che riguardano il corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, coordinato dal Professor Alessandro Marucci. Una prima collaborazione operativa che l'Ateneo ha proposto all'Arta è l'approfondimento di una ricerca finanziata dall'Ateneo sulle emissioni in atmosfera dovute ai cantieri della ricostruzione, ricerca coordinata da Marianna Rotilio. Nell'ambito di tale ricerca si stanno monitorando le polveri prodotte dalla demolizione di alcuni aggregati in centro. Era presente anche il Professor Berardino Romano, che si occupa di pianificazione territoriale. Per l'assessore all'ambiente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente si tratta di un'occasione unica. La collaborazione è una sinergia che orgogliesce come Regione Abruzzo questo tipo di iniziativa che fa crescere complessivamente sia la qualità di offerta che c'è per i giovani studenti universitari, con il discorso tirocinio, al tempo stesso Arta acquisisce tutta una serie di conoscenze che elevano la qualità dei risultati delle nostre azioni che vengono messe in campo.